La cancellazione col tempo, come appena stato detto, delle sanzioni all'Iran sono a mio avviso un altro fatto estremamente positivo e sono un fatto estremamente positivo anche per il nostro paese, perché possono generare attività di export per circa 3 miliardi di euro. Quindi è un bacino commerciale su cui il nostro paese, le nostre aziende, le nostre imprese possono attrarre ricchezza. Io direi però che questo disarmo in questa particolare parte del mondo deve a nostro avviso essere accompagnato da un'altra cancellazione delle sanzioni e lo ripetiamo e insistiamo, che sono le sanzioni che sono state poste in maniera scellerata da parte dell'Unione Europea sulla spinta dell'America nei confronti della Russia. La Russia a nostro avviso deve diventare, soprattutto nella lotta al terrorismo, un partner fondamentale. Alla Russia non si fa la guerra, alla Russia di Putin si stringe la mano anche perché, non solo sul fronte sicurezza, sul fronte Islam, ma anche perché la Russia è diventata ed è sempre stata, in modo particolare negli ultimi anni, per le nostre aziende, per le nostre imprese, per alcuni settori di eccellenza del nostro paese, l'agroalimentare, il legno arredo, il test. Io vengo da una zona, la Brianza, in Lombardia, che commercializza e che esportava tantissimo con la Russia. Oggi quelle esportazioni sono crollate. Allora, togliere le sanzioni, e va bene in questo rapporto con l'Iran, fondamentale, però ci si deve orientare anche a togliere le sanzioni alla Russia. La Russia come amica nella lotta nel contrasto al terrorismo, ISIS che è alle porte, se non addirittura già nel nostro paese, l'ISIS che ha dichiarato guerra al mondo, ma che ha dichiarato guerra all'Europa e all'Italia, ma anche e soprattutto per una questione di natura commerciale. Noi perdiamo, è stato calcolato, dalle sanzioni che sono state poste, ripeto, in maniera scelerata, dall'Europa e dall'America alla Russia, come Italia qualcosa come 12 miliardi di esportazioni. Quindi altro che 3 miliardi. Abbiamo perso 250 mila posti di lavoro e quindi credo che sia che questo protocollo mondiale vada poi riportato anche su un ambito a noi più vicino e probabilmente a noi anche più caro. Grazie a tutti.